Un punto, il primo del 2019, per ripartire. Dopo due stop consecutivi il Teramo ritrova forza nel battagliare per l'intera partita e attenzione in fase difensiva contro un avversario, il Gubbio di Galderisi, in serie positiva da tre turni. Tutte vittorie. La squadra di Maurizio ha badato al sodo, facendo poco per vincerla, ma ha anche rischiato poco e quando gli avanti Umbri hanno provato a sfondare con tiri dalla media distanza, Lewandowski è stato bravo a disinnescare. Le scelte. Maurizio cambia rispetto all'ultima persa con Limolese a centrocampo e in attacco. Nella mediana torna perse dalla squalifica e poi c'è Spighi. In avanti esordio del neoacquisto infantino, buona prova per 45 minuti, poi un evidente calo fisico. Debutto anche dell'ultimo arrivato, Polak, il difensore entrato nella ripresa al posto dell'infortunato Celli, si è ben disimpegnato come del resto l'intero reparto guidato da Capitan Caidi. Dall'altra parte, Galderisi si affida al 4-2-3-1, puntando sulla vena realizzativa di Chinellato. Ha diretto bene Lorenzin di Castelfranco Veneto. Le fasi salienti, pronti via e al quinto ci prova Pedrelli, direttamente sul calcio di punizione dal limite. Lewandowski si distende e sventa. Al ventitresimo, un altro pericolo per il Teramo, da calcio piazzato con Casiraghi che è calcio di destro. La palla viene leggermente deviata da Celli in barriera, sfera che è simila di un soffio sopra il montante. Al 34esimo si mette in proprio Casiraghi che si libera di due avversari sulle tre quarti e fa partire un tiro di destro radente e insidioso che costringe Lewandowski a salvarsi in tuffo. Nel finale di tempo si vede anche il Teramo Celli, rimette in mezzo per Sparacello che viene murato ma sulla ribattuta De Grazia prova il sinistro volante vincente. Ripresa, succede davvero poco o nulla con il Gubbio che cerca di spingere ma non trova il varco giusto, qualche discesa efficace ma niente di concreto sottoporta. E così la partita scivola via sullo 0-0. Per la formazione di Maurizzi si tratta comunque di un buon punto. Sabato al Bonolis contro la Feralpi Isalo occorrerà confermare la solidità difensiva ma anche maggiore incisività in avanti.